Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriel Mura di agisoft-coaching.com e in questo video vi vorrei parlare degli script. Allora, gli script sono dei codici che noi utilizziamo per impartire alcune operazioni all'interno di ciascun chunk. Quindi a differenza del batch process, anziché eseguire delle operazioni che riguardano tutti i chunk, noi andremmo ad agire all'interno del singolo chunk. Quindi vediamo un esempio, ora abbiamo due chunk, di cui il chunk 1 riguarda appunto delle fotografie scattate da terra, mentre il chunk 2 riguarda delle fotografie scattate dall'alto. Facciamo un ripilogo, abbiamo utilizzato il batch process, quindi dal menu workflow siamo andati su batch process e abbiamo impostato in questo caso l'opzione align photos. Quindi vi vorrei dire che in ogni caso utilizzando il pulsante add è possibile svolgere ulteriori operazioni, quindi aggiungere tutte le operazioni che trovate nel menu workflow e anche altri tipi di strumenti. E quindi potete anche decidere se applicare o meno ad uno o a tutti i due chunk. Il primo comando è riferito a tutti i chunk, il secondo solo al primo e il terzo solo al secondo. Quindi questa è un po' la sintesi diciamo di questo comando che abbiamo appena visto. Dunque abbiamo detto che volevamo parlare in questo tutorial dello script, quindi ci sarebbe utile utilizzare in questo caso un comando che è appunto quello per fare la gradual selection tramite il quale io potrei andare su model e potrei selezionare il comando gradual selection. Però normalmente uno deve fare uno, due, tre, quattro step per applicare il filtro perché deve comunque sia interessare ciascuno di questi parametri che spesso sono conseguenziali, quindi uno deve essere applicato dopo l'altro. Quindi parlandovi dello script appunto vi vorrei parlare dello script che riguarda il gradual selection che ci permetterà di utilizzare un codice quindi che riassumerà tutte queste fasi in un'unica procedura. Quindi per ora mostrervi come funziona andiamo un attimo su Google e vi faccio vedere dove trovate lo script. Quindi innanzitutto cercate il metashape script e trovate come primo risultato appunto su gtab.com un elenco degli script diciamo più utilizzati. Quindi innanzitutto nella prima riga trovate appunto l'articolo che vi dice dove inserire lo script. Quindi ci clicchiamo su, quindi l'ho già aperto nella cartella che mi riguarda, che vi mostro. Quindi dovete andare su program file, gsoft, metashape pro, phyton e script e quindi qua dentro dovete creare un nuovo documento di testo, come vedete io l'ho già creato. E quindi dovrete andare nella pagina che vi ho appena mostrato, su gtab, farei doppio clic sulla cartella search e quindi su contrib. E dopodiché posso aprire il file gradual selection t-points. Quindi cliccando qua dentro avrete un codice, uno script che appunto riassume tutte le funzioni, tutti i comandi di ciascuna fase del gradual selection. Quindi tutte queste opzioni saranno applicate al nostro procedimento. Dunque non ci rimane che copiare tutta questa stringa, quindi la possiamo evidenziare col mouse, fare clic sul tasto destro, fare copia, andare nel nostro file di testo che abbiamo aperto poco fa, tasto destro, incolla. Ora però il file è in formato txt, quindi dobbiamo rinominarlo, quindi dobbiamo fare file salva con nome e salvarlo in un altro formato che è quello di python. Come vedete qua il formato di python è .py, quindi in questo caso io lo dovrò salvare con questa estensione. Quindi py e quindi lo chiamiamo gradual selection, ma che lo chiamiamo test perché noi ce l'abbiamo già. Lo dovete salvare necessariamente sul desktop. Ok, e quindi poi dovete fare copia e incolla e inserirlo in questa cartella. Quindi questo file adesso noi lo possiamo cancellare. E quindi possiamo dire che il file che abbiamo ottenuto è questo qua, gradual selection di points.py. Quindi non ci resta che entrare nella cartella di metashape, andare su tools e poi andare su run script e andiamo a cercare questo file che vi dicevo prima, utilizzando sempre questa directory che ci viene data. Troveremo come vedete il file che ci interessa, quindi facciamo clic su apri e non ci rimarrà che fare clic sul tasto ok per applicare questo filtro. Come vedete ho un milione e 600 mila punti dopo che utilizzerò questo script e sarà applicata la gradual selection. Vediamo cosa succede. Infatti, come vedete, è rimasto solamente il nostro fabbricato che ci interessa ricostruire, tutto quel groviglio di fotografie. Trovo che sia stato molto utile mostrarvi questo strumento. Inoltre esistono tantissimi altri strumenti, dunque potreste decidere, però per quanto riguarda questo dataset, che ad esempio, come vedete, non tutte le fotografie sono state allineate e quindi che vogliate, appunto, eliminare le foto che non sono state allineate correttamente. Quindi un altro script che vi mostro in questo istante è quello che serve per eliminare tutte le foto non allineate. Quindi faccio clic su Alignate, dopo aver fatto clic sulla prima fotografia, tengo premuto il tasto Shift e seleziono l'ultima fotografia non allineata. Ci clicco sopra e quindi faccio clic col tasto destro e vado su Move Cameras, New Camera Group. Quindi in questo modo ho creato un nuovo gruppo, che è questo qua, fatto di 93 fotografie, e che io voglio però eliminare. Faccio clic sul gruppo 2, col tasto destro, e faccio clic su Disabilità Telecamere, quindi Disable Cameras. Quindi in questo caso potremmo utilizzare un altro script che ci serve per eliminare tutte queste fotografie in eccesso. Come vedete, attualmente abbiamo 1529 fotografie, eliminando queste fotografie di cui vi ho parlato, arriveremo a 1430. Quindi applichiamo lo script che vi ho appena mostrato, andando su Run Script, seleziono lo script Remove Disabled Photos, faccio clic su Apri, faccio clic su OK, e faccio clic su Remove Disabled Photos. Fate attenzione a questo numero, che diverrà uguale a 1430. Eccolo qua. In realtà ci eravamo persi probabilmente 6 fotografie nella nostra selezione, e quindi possiamo anche cercarle, queste fotografie che ci siamo persi. E sono infatti queste la fine. Le evidenziamo, le cancelliamo manualmente. Ora abbiamo lo stesso numero di fotografie, su 1.400 immagini, abbiamo allineato 1.400 fotografie. Benissimo ragazzi, quindi spero che questo video vi sia risultato utile. Lo trovo davvero utile per velocizzare quelli che sono i processi. Tante volte capita in alcune procedure che, ad esempio, il numero di fotografie vengono moltiplicate. Quindi anche in quel caso vi consiglio di fare una cartella per il vostro dataset originario, in maniera tale di eliminare tutte le fotografie superflue in eccesso, insomma. E di metterle appunto su una cartella dove disabilitate le telecamere, e dunque dove potete anche eliminarle con un procedimento istantaneo. Vi ricordo di seguirmi sui canali social, agisoftcoaching, e al mio blog agisoft-coaching.com Grazie, al prossimo video. Ciao!